Pisa. Ad inizio stagione è già tempo di derby per il basket pisano. In promozione maschile, nel posticipo di lunedì al Palasport Carlesi, si sfideranno IES Sport e GMV Basket, con stati d'animo opposti dopo la prima giornata di campionato. La IES ha perso all'esordio in anticipo a Volterra, 70-60. Paolo Campani, Colac Biancazzurro in tandem con Matteo Parrini, non fa drammi e guarda avanti. Purtroppo abbiamo accusato qualche assenza? In compenso i giovani si sono comportati benissimo. In fondo il nostro progetto è di lanciare i nostri ragazzi. Frolli è al rientro. Si spera di recuperare, anche Mariotti e l'ultimo arrivato, il pesarese Mattia di Donato. Sicuramente Out Davide Bagheri, che si opera ad una spalla. Una tegola non da poco. La IES come arriverà al derby. Campani non nasconde le difficoltà? Non ci siamo allenati molto in palestra. Compensando con qualche amichevole. Affronteremo una bella squadra, che ha tanti giovani e due ottime chiocce come Malventi e Bolelli, ex capitano della IES, NDR. Sono più in palla di noi. Si vede che provano i movimenti. Anche noi lavorando miglioreremo. Comunque i derby sono partite a parte, aperte ad ogni risultato. Grande entusiasmo in casa GMV dopo il vittorioso debutto ai danni di 6 Rose Rosignano, 76-72. Il presidente Luca Benedettini si gode il momento. I ragazzi sono stati tutti bravissimi, contro una squadra molto veloce, che inizialmente ci ha fatto soffrire. Complimenti ad Andrea Malventi. È stato devastante, un vero leader. Pian piano abbiamo recuperato e ribaltato il risultato, reagendo bene anche all'uscita di Malventi per 5 falli.